Un amore travolgente, una storia che sembrava infinita. Federico Dionisi lascia il Frosinone dopo oltre sei stagioni, 209 partite e 63 gol, numeri che riassumono e forse semplificano il racconto di una favola tinte giallazzurre, con in mezzo pagine di gloria, partite esaltanti, cadute, risalite e momenti di godimento assoluto. Federico Dionisi lascia una traccia indelebile nella storia del Frosinone, la doppietta contro il Crotone nel pomeriggio dei sogni realizzati al Matusa, la prima volta in Serie A, i gol nei derby, la tripletta al Vicenza, poi lo stirpe e il faccia a faccia con Nestorowski nella notte, forse più bella quella del Dionisi capopopolo, guida spirituale di un gruppo che in pochi come lui hanno rappresentato e trascinato a traguardi, che sembravano folli, simbolo di un'epoca, leader carismatico con un carattere forte, tenace e spigoloso in campo, unito ad una sensibilità unica, spesso nascosta fuori. Federico Dionisi è stato l'orgoglio di ogni tifoso del Frosinone, lo sguardo fiero di chi per anni ha avuto in squadra. Il giocatore più forte del campionato saluta l'ultima bandiera, il protagonista di una storia bella, intensa, emozionante, che resta scolpita nella memoria, nei ricordi, nel cuore di tutti.